Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale, apriamo il nostro notiziario parlando di politica. L'assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso lascia l'aggiunta greco. Le dimissioni sono state ufficializzate ieri pomeriggio via PEC. Il gruppo di azione ha deciso che non ci sono più le condizioni per stare all'interno dell'amministrazione. Non l'ha presa benissimo naturalmente il primo cittadino, secondo cui la repentina evoluzione verso l'opposizione del gruppo di azione, sintetizzata proprio dalle dimissioni dell'assessore Caruso, avrebbe mere ragioni di interesse politico. Vediamo. Il divorzio era nell'aria da tempo fin da quando il coordinatore di azione Luigi Di Dio aveva quasi giustificato la loro permanenza in giunta con la scusa del governo di salute pubblica. Una definizione che non era per nulla piaciuta a Greco, né tantomeno ai suoi fedelissimi e che con molta probabilità ha accelerato la separazione tra l'ormai ex assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso, espressione di azione in giunta, e lo stesso primo cittadino. Le dimissioni sono state ufficializzate ieri pomeriggio via PEC. Il gruppo di azione ha deciso che non ci sono più le condizioni per stare nell'amministrazione. L'assessore, dal momento dell'insediamento, ha retto le sorti al settore sviluppo economico, con particolare attenzione posta alla linea di finanziamento. Il completamento dell'iter di qualità abitare con i contratti in via di sottoscrizione pare abbia convinto a considerare chiuso il ciclo amministrativo. Dal momento in cui noi non siamo per un greco bis, il sindaco si è naturalmente già candidato per un secondo mandato, coerentemente a questa decisione abbiamo deciso di uscire fuori dall'aggiunta. Abbiamo aspettato? Ho aspettato, perché ho seguito tutto l'iter dei finanziamenti, del PNRR, del PINGU, è tutta una situazione non messa bene che ho trovato all'inizio del mio mandato. Naturalmente questo mi premeva più di tutti. Ho aspettato che tutto l'iter fosse concluso per poter andare via. Azione lascia la maggioranza per opportunità politica, non supporta l'idea di un greco bis ed è pronta a guardarsi in giro per trovare una collocazione all'interno di un nuovo progetto politico, come conferma il coordinatore Luigi Di Dio. Stiamo eseguendo un percorso diverso dall'amministrazione, il sindaco sembra intenzionato a ricandidarsi e noi valuteremo i progetti che ci sono in città con le mani libere e non con impegni già presi per un greco bis, così come avevamo detto quando abbiamo accettato di entrare in giunta. Sarebbero già iniziate le prime interlocuzioni sia col centrodestra che con la cora dei progressisti. Per azione al momento non esisterebbero preclusioni a qualsiasi progetto. Allo stato attuale abbiamo avuto soltanto delle interlocuzioni, non abbiamo avuto incontri formali e da oggi cominceremo a sederci con qualcuno per vederci se ci sono possibilità di fare dei progetti comuni. Ormai abbiamo fatto una scelta in azione, non c'è possibilità di un greco bis. Non l'ha presa benissimo naturalmente il primo cittadino, sempre più solo, che vede allontanarsi sempre di più l'ipotesi di una sua candidatura bis. Secondo Greco, la repentina evoluzione verso l'opposizione del gruppo di azione, sintetizzata dalle dimissioni dell'assessore Caruso, avrebbe mere ragioni di interesse politico. Una cinica strategia in vista delle amministrative. Non la pensa così l'ex assessore. Il sindaco è un po' confuso, insomma ci ha dato decineci. Non abbiamo mai avuto degli incontri naturalmente con il sindaco, partito, segretario, ufficiali, non li abbiamo mai avuti. Ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto in giunta, è stata fatta un'aggiunta informale riguardante la situazione politica, futura, amministrativa della nostra città, dove il sindaco aveva chiesto sostegno. Naturalmente in questa riunione lui disse qualora voi vogliate prendere delle strade diverse da quella che possa prevedere una mia seconda ricandidatura, è chiaro, logico, coerente e non cinico, naturalmente lasciare l'aggiunta. E così abbiamo fatto. Questa dimostrazione di che cosa? Che noi siamo coerenti e che non siamo mai stati legati alla poltrona, ma a lavorare e fare bene solo per la città. E continuiamo a parlare di politica. Ieri c'è stata l'ennesima riunione della Cora Progressista. Riuscirà a questo punto Nuccio Di Paola a fare sintesi come richiesto dalle varie anime della Cora Politica. Da ieri sera il parlamentare Ars si trova in mano un elenco ancora più ampio di potenziali candidati a sindaco. Nel novero anche Nuccio Vacca per il Partito Comunista e Filippo Franzone per moto civico. I particolari in questo servizio. L'agora politica non ammaina la bandiera. Ieri sera il nuovo vertice che ha messo insieme i pezzi progressisti, civici e moderati ha dato il via libera alla rosa di nomi per i potenziali candidati a sindaco. Non ci saranno altri innesti ai tre noti. L'ex parlamentare Ars Miguel Donegani, il civico Terenziano Di Stefano e il rappresentante del tavolo dei moderati Piero Ronigro si aggiungono Nuccio Vacca dei Comunisti e Filippo Franzone, espressione di moto civico. Non ci saranno appunto altri nomi come spiega il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola che è garante di questo percorso che si sta sviluppando da diversi mesi. Secondo Di Paola si può arrivare alla sintesi con candidato e squadra di governo entro fine mese. Nei prossimi giorni cinque candidati e referenti di tutti i gruppi approfondiranno ulteriormente per cercare di stare nei confini di un'alleanza che trovi la giusta convergenza. Secondo Di Paola sono tutti consapevoli che i nomi espressi vanno valutati nell'agora sulla base dei criteri decisi. I moderati che negli ultimi giorni sembravano voler forzare per la candidatura di Lonigro in rappresentanza dell'intera coalizione erano presenti con i dirigenti Italia Viva e proprio con l'esponente socialista. Non pare ci siano spinte per dire addio al cammino almeno fino ad ora ancora una volta. La corsa si farà probabilmente proprio sul nome potrebbe essere decisivo per la tenuta o meno dell'alleanza. I grillini collante di questo tragitto politico ma anche i dem valuteranno le candidature in campo senza esprimere loro rappresentanze. Se l'ambizioso tentativo di mantenere compatta l'agora potrà avere successo solo gli sviluppi successivi potranno dirlo i vertici del Movimento 5 Stelle. Ci proveranno fino alla fine mentre fuori dal cerchio non mancano mosse e contromosse come quella ieri ufficializzata da azione. I calendiani hanno lasciato l'aggiunta greco e fuori dai due blocchi tanto ancora può accadere. È stato segnalato al Comune attraverso il Sindaco l'attivazione di un ripetitore di segnale per la telefonia mobile nei pressi della villa comunale e nelle immediate vicinanze di un flesso scolastico. Per questo motivo il primo cittadino aveva chiesto il 5 febbraio agli uffici della SUAP su e all'Arpa Sicilia di aprire un'istruttoria e verificare la mancanza dei pericoli per la salute dei cittadini. Il Sindaco greco ha chiesto di valutare la sospensione delle autorizzazioni nelle more in cui siano ripristinati i valori oppure inibire la prosecuzione alla luce dei parametri e degli eventuali scostamenti accettati dall'Arpa. La stessa azienda attiverà i controlli dovuti estendendoli a quelle infrastrutture che si trovano ubicate in località sensibili come scuole e luoghi di particolare flusso dei cittadini. Il 27 febbraio presso la Scuola Elementare Santa Maria di Gesù in Via Ventura i funzionari dell'Arpa eseguiranno le analisi sull'impatto elettromagnetico della stazione radiobase posta sul torrino di un fabbricato posizionato nelle immediate vicinanze della scuola. Passiamo alla cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha disposto il dissequestro dei beni che erano finiti sotto confisca. Sono riferibili all'imprenditore dell'ortofrutta, Claudio Domicoli. A novembre dello scorso anno, su provvedimento dei giudici del Tribunale delle misure di prevenzione di Caltanissetta, fu disposta la confisca di due aziende e di un conto corrente riconducibile all'imprenditore Claudio Domicoli, in passato condannato per contestazione di mafia. In appello però i magistrati nissegni hanno disposto il dissequestro con la revoca della confisca. È stato accolto il ricorso avanzato alla difesa sostenuta dall'avvocato Flavio Sinatra. Già nel primo procedimento i magistrati non avevano accolto la sottoposizione alla sorveglianza speciale per quattro anni. La difesa ha ribadito l'assenza di pericolosità sociale. Domicoli e familiari operano nel settore dell'ortofrutta e della trasformazione dei prodotti del comparto. Non è possibile individuare una presunta sproporzione tra le disponibilità dell'imprenditore e l'attività svolta, come è fatto rilevare nel corso del procedimento. La confisca, che era stata decisa in primo grado, è stata impugnata e la corte d'appello si è pronunciata proprio per la revoca di sequestrando i beni. Non erano stati sottoposti a vincoli invece i mezzi e altre disponibilità finanziarie. E domicoli attualmente a processo per un'indagine su una presunta intestazione fittizia. In passato c'era stata un'altra revoca per beni che erano stati sottoposti a misura. Ansia, crisi di panico, scoppi di rabbia improvvisi, smeglimenti, azzeramento o quasi dei rapporti sociali. Possono essere questi e tanti altri contraccolpi all'uso sconsiderato di smartphone, videogiochi e altri dispositivi digitali da parte dei bambini molto piccoli e degli adolescenti. Per correre ai ripari il pediatra deputato del Movimento 5 Stelle all'Ars, Carlo Gidistro, ha messo a punto una proposta di legge che mira a vietare l'uso delle apparecchiature digitali ai bambini nei primi anni di vita e a limitarle fortemente fino a 12 anni. Vediamo. Smartphone e tablet. Non è un mistero che anche i bambini più piccoli abbiano grande dimestichezza con questi strumenti. Ma ora, per tutelare la loro salute psicofisica, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge dal Movimento 5 Stelle che può portare sanzioni per i genitori in adembienti. Da tempo gli esperti dell'età evolutiva cercano di sensibilizzare una consapevolezza educativa e una presenza più attenta e coinvolta rispetto a ciò che i propri figli fanno nella vita online. Quindi abbiamo dei disturbi delle emozioni, dei fastidi che non riescono a gestire anche durante la notte, incubi, sonnolenza giornaliera perché anche il tablet, i cellulari stancano gli occhi, stancano la psiche, ma una stanchezza non produttiva. Quindi assolutamente sono degli strumenti che nuociono il sistema neurovegetativo, la gestione della giornata e la gestione notturna e soprattutto l'irritabilità perché quando il bambino viene richiamato dal genitorio, dai coetanei, in qualche modo loro si sentono disturbati da un mondo virtuale e quindi questo tra virgolette disturbo che loro percepiscono fa nascere, quindi fuoriuscire, quella rabbia che non riescono appunto a gestire. Ecco perché infatti si promuovono tanti progetti per gestire le emozioni nei bambini perché questi social così dati assiduamente per tanto tempo in questa teneretà non fanno altro che non farli sperimentare a gestire loro stessi ma a farsi gestire da un tablet. La proposta di legge mira a sollecitare un approccio graduale ai dispositivi elettronici con un assoluto divieto fino ai tre anni di età. Sotto la supervisione dei genitori poi dai tre ai sei anni viene consentito per un tempo massimo di un'ora al giorno. Dai sei agli otto anni i bimbi potranno soffrire di tablet e telefoni per tre ore al giorno. Fino a dodici anni sono concesse quattro ore. Il progetto presentato alla camera include anche una sanzione per chi non si adegua alle disposizioni. Il pagamento di una somma che va dai 300 ai 1500 euro. Spesso si sente dire i bambini sono molto attaccati ai cellulari ma i bambini sono lo specchio nostro quindi se il genitore incentiva l'utilizzo di cellulari e tablet appunto per farli stare tranquilli in realtà incrementa un disturbo nel bambino che è quello della gestione delle emozioni. Le emozioni vanno gestite attraverso il gioco libero semplicemente dando dei puzzle o comunque dei giochi ricreativi ma non di certo l'utilizzo di smartphone, di cellulari, di computer eccetera. Quindi ho visto che in alcuni posti danno proprio dei disegni e dei colori. Questa è una bella iniziativa spero che lo facciano un po' tutti perché questo già impegna il bambino che appunto potrebbe annoiarsi nelle discussioni dell'adulto che anche lì però quando andiamo a cena con i nostri figli con bambini comunque creare dei discorsi che possano in qualche modo anche incuriosire loro e quindi cercare di introdurli nel discorso non facendoli isolare poi si annoiano e cercano il cellulare. Anche per i figli più grandicelli che vanno a scuola non è indispensabile uno smartphone. Se proprio si desidera che siano reperibili quando escono da scuola ad esempio può bastare fino a 12 anni un telefonino senza internet da usare esclusivamente per eventuali chiamate. Insomma le strategie esistono e il buon senso pure. Attendiamo ora di sapere come evolverà questa proposta di legge. La Regione ha dato il via libera a ulteriori verifiche per l'ex discarica industriale Cipolla. Sarà effettuata una caratterizzazione ambientale finalizzata alla messa in sicurezza. Quattro anni fa vennero stanziati i fondi ma il percorso è stato tutt'altro che facile e particolare in questo servizio. Distanziamenti anche piuttosto ingenti risalgono ad accordi con Ministero e Regione. Sono però trascorsi non meno di quattro anni dalla formalizzazione di quelle intese e si sono mossi pochi passi per gli interventi di messa in sicurezza di una delle ex discariche industriali ribattezzata Cipolla. In passato venne usata per stoccare scarti e sostanze pericolose del ciclo industriale. Non si è mai sviluppato un piano generale di bonifica che sicuramente richiederebbe risorse ben maggiori rispetto ai 10 milioni di euro della messa in sicurezza. Anche su quest'ultimo ambito però ci sono voluti anni prima che si attivassero procedure concrete. Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti appena ha emesso un provvedimento che autorizza le attività di caratterizzazione ambientale dell'intero sito della discarica nella zona di Piana del Signore. Se ne occuperà una società specializzata che ha ottenuto l'incarico dal RUP del procedimento. Il Comune, inizialmente indicato come soggetto attuatore che avrebbe dovuto coordinare tutte le procedure, rinunciò per mancanza di personale da destinare ad interventi così complessi. Una prima caratterizzazione era stata effettuata in passato. Si pone l'esigenza comunque di avere riscontri aggiornati. Gli accertamenti condotti in verifiche precedenti confermarono l'assenza di impermeabilizzazione. Di fatto il sottosuolo sarebbe compromesso in aree che per diverso tempo sono rimaste del tutto accessibili pure al pascolo. Una recinzione è stata collocata in anni recenti e spetta alla Regione cercare di finalizzare le attività a partire dalla caratterizzazione per evitare che i fondi di oltre 10 milioni di euro possano andare incontro alla scure della revoca. Cipolla è una delle aree più compromesse a seguito delle attività di smaltimento del passato. Somme furono autorizzate anche per un altro sito, quello di Marabusca. La normativa in materia stabilisce obblighi di messa in sicurezza e bonifica in capo a chi ebbe la proprietà dell'area, la dittando incontro al fallimento. Solo lo Stato, in questo caso con Ministero e Regione, può imbastire un progetto anzitutto per limitare l'incidenza della contaminazione. In un periodo sicuramente di forti incomprensioni tra Palazzo e Città e le società che coordinano il ciclo locale dei rifiuti, arriva però la sottoscrizione della Convenzione che permette al Comune di fare affidamento sulla piattaforma integrata di Timpazzo. I conferimenti proseguiranno e l'atto ufficiale è stato sottoscritto dalle parti sulla base della tariffa calmirata fissata da impianti SRR che gestisce il sito. L'ammontare è di 50 euro per tonnellata, oltre al tributo speciale di 12,23 euro per tonnellata. Per tre mesi l'importo calcolato è di 375 mila euro per conferire i rifiuti della raccolta ordinaria proprio nel sito di Timpazzo, gestito da impianti SRR, l'in-house della SRR4. Sono stati rilasciati tutti i pareri tecnici favorevoli in frangente delicato, culminato nel dissesto del municipio. La convenzione è stata finalizzata con le firme della manager di impianti Giovanna Picone e del dirigente del settore ambiente Mario Picone. Gli stanziamenti trovano copertura nell'Atari con il PEF 2023-2025 e l'impiantistica del ciclo locale dei rifiuti, oggetto adesso più che mai di contrasti interpretativi tra enti e comuni e quanto accaduto con lato in liquidazione è solo l'ultima tappa. Cambiamo argomento, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport, partiamo con il calcio. Mirko Fauciana torna oggi a dirigere gli allenamenti del Gela, pare che ieri lo spogliatoio e il tecnico abbiano parlato e adesso la scissione che divideva le due parti non ci sia più. Si dimettono invece i dirigenti dell'anno scorso del Gela FC e soprattutto Alessandro Bonaffini, le cui dimissioni però non sembra che facciano contenta la società che ha deciso di non accettarle. Vediamo. Per essere finalmente rientrata la situazione in casa Gela Calcio, o almeno questo è ciò che vuole far credere la società. È avvenuto infatti un incontro ieri pomeriggi allo stadio tra gruppo squadra e dirigenza tecnica in cui si sono chiariti i problemi che sono emersi negli ultimi mesi, in particolar modo nelle ultime settimane. Sarà infatti mister Mirko Fauciana, rientro oggi dalla squalifica dopo la stangata ricevuta nella trasferta di Enna, a dirigere gli allenamenti e la squadra fino a fine stagione per queste ultime otto gare di campionato. Per quanto riguarda la dirigenza, pare che siano andati via alcuni dirigenti ex Gela FC, tra cui il direttore sportivo Alessandro Bonaffini, che ha rassegnato le proprie dimissioni, respinte però dalla società. Situazione precaria in casa Gela non solo a livello societario, ma anche in termini di risultati. La squadra bianca-azzurra non vince e soprattutto non segna dalla trasferta di Mister Bianco di esattamente un mese fa. Da allora zero gol segnati, un pareggio e tre sconfitte, l'ultima clamorosa contro la Rocca Acquedolcese non perdonata dalla piazza, impuriata con la società. La prossima gara sarà domenica al Vincenzo Presti contro l'Atletico Catania, un dicesimo in classifica e in ottima forma. Gli Etnei vengono infatti da cinque vittorie nelle ultime sei gare, tra cui quella per 1-0 contro il Modica, terza forza del girone contro cui il Gela invece è perso per 3-0. All'andata tra Atletico e Gela finì 1-1 al campo di Alisa di Catania, con i bianca-azzurri che giocarono per praticamente tutto il secondo tempo in superiorità numerica e pareggiarono solo all'ultimo con lo giudice sul rigore. Adesso la situazione è totalmente diversa. Di mezzo tra le due gare c'è stato infatti un mercato invernale che ha visto la squadra catanese rinforzarsi notevolmente con più di 10 innesti di alto livello e la squadra gelese indebolirsi con raddi importanti e innesti non all'altezza, ad eccezione di tre piedi che non è però al 100%. Come se non bastasse, saranno out per domenica non solo con l'Isano e Martinez ma anche il capitano Gambuzza. Probabile vedere in campo domenica tuve è lungo, a meno che il tecnico gelese non deciderà di sorprendere tutti e buttare nella mischia qualche giovane under, proveniente dal florido settore giovanile bianca-azzurro come Vincenzo Cagliola. Già nel giro della prima squadra da qualche mese. Dal calcio al futsal il Gela Calcio 5 segna, subisce 4 gol e poi ribalta la partita segnando tre reti e pareggiando definitivamente i conti sfiorando anche il successo. Gara di carattere della squadra di Mister Fecondo, vanificata però dai soliti 5 minuti di blackout in cui i bianca-azzurri hanno smesso di giocare e hanno lasciato che gli avversari salissero in cattedra e servizio. Pareggio con la Villaura di Monreale che sta stretto e bianca-azzurri del Gela C5. Al pala Livatini il risultato finale tra le due compagini è stato di 4 a 4 con i padroni di casa che hanno giocato a viso aperto sfiorando la vittoria ma anche la sconfitta. Nel primo tempo parte subito forte la squadra di Mister Fecondo in gol dopo pochi minuti con il numero 10 croci di Bartolo. A pochi minuti dall'intervallo arriva però la rimonta dei Palermitani con Romano e Abisso che portano la propria squadra negli spogliatoi in vantaggio. Nel secondo tempo blackout dei Gelesi e altri due gol incassati, siglate rispettivamente da Giannola e Scalavino. Nel momento migliore dei Monrealesi arriva però la reazione dei locali. Nel momento migliore dei Monrealesi arriva però la reazione dei locali, come solo poche volte purtroppo abbiamo visto in questa stagione. Il Gela ribalta la gara nel giro di qualche minuto con Infurna prima e i Cinici dopo, autore di una doppietta che per qualche centimetro di troppo non diventa tripletta. Nei minuti finali il Gela ci prova in tutti i modi usufruendo anche del portiere volante lasciando la porta sguarnita ma non riesce a trovare il gol del definitivo 5-4 con qualche attimo di nervosismo a causa di decisioni arbitrari discutibili con l'espulsione di Bartolo a 5 minuti dal termine. La squadra bianca-azzurro ottiene con questo pareggio il quinto punto in campionato a 6 giornate dal termine portandosi a 12 lunghezze dalla zona play-out e a 13 dalla zona salvezza. È stata una partita dai tre posti praticamente perché abbiamo iniziato bene, potevamo fare il 2-0. Poi ogni volta che l'avversario, come succede sempre in questa stagione, prendiamo gol ogni volta che l'avversario tira in borta. È stata una deviazione, non mi ricordo. Il fatto sta che si sta ripetendo sempre lo stesso film dall'inizio stagione. Poi ci sono i 2-3 minuti di follia come sempre dove prendiamo 2-3 gol. Vi assicuro che le partite nostre, le sconfitte, sono concentrate in 3-4, al massimo 5 minuti. Dopodiché ho chiamato il time-out perché ho capito che la testa già era andata via. Ci siamo resettati, abbiamo fatto il quinto di movimento e la partita è cambiata, anche perché loro sono andati molto in difficoltà. A quel punto la partita ce l'avevamo in mano. Con un po' di più freddezza la potevamo anche vingere perché bastava forse avere un po' più calma e aspettare solo l'occasione per fare il 5-4. Va bene così per come si era messa la partita, però a noi onestamente questo pareggio serve a poco. Ora speriamo alla prossima partita di avere un po' di sostegno dal pubblico perché arriva la capolista e ci teniamo a fare bene. Anche quando molti ci danno per spacciati, per noi dobbiamo sempre dare fino all'ultimo secondo. Il massimo è lottare come non avevamo fatto in molte occasioni e come abbiamo fatto quando abbiamo recuperato la partita. Forse abbiamo rischiato di vincerla quando i ragazzi hanno di nuovo fatto il gol e quindi si sono casati, hanno ritornato, sono ritornati a mettere in campo quello che dia sempre li ha contraddistinti, la lotta, senza di quello quella squadra. Questa squadra non va oltre certi limiti, per cui lo sappiamo bene, o lottiamo o perdiamo. Ho fatto di tutto per tenere vivo questo sogno, anche quando forse la classifica dice che ormai siamo retrocessi, ma io dico solo che se non lotti è meglio restare a casa. Io avevo dato un ultimato, probabilmente se oggi non si vinceva non so come andava a finire per quanto mi riguarda, perché se perdiamo e lottiamo, ripeto, per il discorso di lottare sono contento, se perdiamo e vedo una squadra morta non mi riconosco, per cui è meglio che mi metta da parte. 8 piccoli atleti del team Box 88 hanno partecipato alla 17esima Coppa Sicilia che si è svolta a Modica la scorsa domenica. Michel Maru, Simone Licata, Giuseppe Maru, Ines Gaucci, Emanuele Mezzasalma, Mia Di Benedetto, Giulio Carfì e Nicola Slegname, capitanati dell'istruttore Alberto Scicolone e dall'allenatore Nicola Buscemi hanno preso parte alla prima esperienza nella specialità Catà. I bambini si sono ben districati nelle varie categorie, dando il massimo ed eseguendo le varie tecniche nella maniera più precisa possibile. Soddisfatti dell'esecuzione, i piccoli marzialisti si preparano al prossimo evento che si terrà a Decireale il prossimo 17 marzo. Bene, questa era la nostra ultima notizia, siamo in chiusura naturalmente, se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigela.it se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate tutti sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram e Youtube. Per il momento è tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti